Buonasera a tutti. Parlerò italiano perché penso che se parlo lentamente mi capite. Come anche io capisco i francesi se parlano lentamente, ma a Parigi nessuno parla lentamente. Quindi la storia di queste canzoni sono alcune delle canzoni che la mia scuola ha creato, in particolare dove sei mamma, il testo è stato scritto dagli alunni della scuola, la musica da me è dalla mia ragazza che adesso è diventata mia moglie. Allora mi hanno dato questo testo e doveva essere una ninna nanna, cioè una canzone per dormire. Io ho suonato la musica e ho detto alla mia ragazza tu canta e noi registriamo, vediamo come viene. La canzone è riuscita bene, quindi io ho fatto solo la base, una base appunto che ricordava la calma, la tranquillità, fa un po' così. Per dormire, per dormire. Lei ha cantato sopra ed è venuta fuori questa canzone, dove sei mamma. Buon ascolto. No, io non ci sto, sola non resterò. Mamma dove sei andata, io ti ce chiedo, credimi. Ti troverò, ti sognerò, anche questa buona notte. 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 che questa notte buonanotte